Buon appetito! Eccolo qua, di ricorsa, adesso mi viene, quindi pesce, sedde, sanna, dietro, carro sanna, ora ce ne sono due lì, arrivo è da questa parte, 1.100, ecco lì, è buona, rimane lì invece, batistuta con Alessio Mighelli, vola in vantaggio, Montesirai provata a tenere la posizione allo steccato, Gavine, tu in sella, viene mantenendosi in vantaggio, nei confronti di Abba Nero, che adesso si accomoda, secondo, terzo, è Carlo Sanna, il gradiatore all'arco del quale, la grigio a nocciola, va percorsi interna, invece, Giuseppe Zete con Giupoliere, lontano, batistuta, tre quarti circa della retta di fronte, Montesirai con Gavino Sanna in vantaggio, mantiene una lunghezza e mezzo di margine, all'esterno il grigio a nocciola, che si appaccia in seconda posizione, lasciando in corda Abba Nero, Giuseppe Zete con Giupoliere, su questo parziale, perche un paio di lunghezze, quando siamo all'attacco del secondo, conclusivo giro, C'è sempre in vantaggio Montesirai, Caria che rimane di fuori, secondo in corda, Dino Pessa, Abba Nero, poi Carlo Sanna, terzo, Montami, il gradiatore, Braccio Frusa, adesso per Pezzetti, Giocogliere, Caria, davanti però, Montesirai, si trappa ancora e spara un bel parziale, tanto che intensifica, e a tre quarti a retta di fronte, almeno quattro lunghezze, sembra facile, ecco, il cucetto c'è avanti buoni, c'è poi la pasta, non lo iappono più questo, e vice, Camino Sanna, secondo, e Dino Pessa, quindi Camino Sanna, Dino Pessa e Carlo Sanna all'arrivo, molto bravo, e vabbè, Camino, la natura sa che cosa vuol dire, è due chili o la oratella, come dico io, quindi, fine di una storia, giornate del secondo, più vicino a Campanello, marcasore che si completa con Abba Nero, che chiudesse il posto, il terzo posto per il Gagliatore, Gavino Sanna, Dino Pessa e Carlo Sanna.